eccoci eccoci qua ciao ciao a tutti nuovissimo video per parlare di un argomento che a me sta molto molto a cuore ossia i pirati e parliamo quindi di questa serie eccola qua il lungo giovanni d'argento anche chiamato long john silver come potete vedere dal logo stiamo parlando del famoso pirata ma come ne parliamo ne parliamo in una veste ne parlano ne parla d'horizon dell'autore e matteo il frio che è disegnatore e in teoria colorista perché qui non so perché ma laurea non mette questi crediti comunque loro ne parlano in una veste molto molto particolare perché io mi aspettavo di trovare qualcosa di pirates co di azione moltazione arembaggi insomma il classico classica storia di pirati che chi mi segue da un po sa che a me insomma piacciono molto storie di pirati invece ho cercato tantissimo nel mondo dell'usato non è facile trovarlo a un buon prezzo tutti e quattro è l'ho trovato finalmente già da un po l'ho trovato l'ho letto sui ritardissimo questo video su quattro volumi è di da editoriale aurea qui era ancora aurea comics la serie e praticamente sfogliandoli appena presi si ho subito reso conto che ho detto qua non c'è non c'è tanta azione non c'è tanta tanta pirateria come come la intendo io faccio un po vedere intanto qualche tavola e invece e quindi l'avevo un po accantonato perché poi io se non sono il mood non leggo le cose che guardate qua e invece dopo che è successo che l'ho preso per leggerlo ho iniziato a leggerlo e devo dire che l'impressione che mi aveva dato era vera non c'era tutta questa pirateria scontri arembaggi eccetera ma la storia era molto molto più complessa per un certo verso ma che alla fine mi è piaciuta uguale perché alla fine di che parla sto stasera voi dire voi chiedendo parla praticamente di lord esting che ballici alla ricerca di eldorado apparentemente la trova e scrivo al fratello a londra inghilterra di mandargli insomma dei rinforzi delle barche di rinforzo per il tesoro eccetera eccetera perché ha trovato la città dell eldorado lui contatta la moglie che è rimasta in inghilterra del lord esting che è che ha l'avventura la moglie l'ha sposato un po perché lo deve sposare lady vegan esting appunto che per il titolo il primo primo volume un po un po particolare e lei insieme allon john silver che poi incontrerà dopo è la vera protagonista di questa storia perché perché lei decide di partire anche lei per sudamerica vele eldorado risalendo il fiume dal mare risalendo il fiume nella giungla ma lei vuole insomma non è proprio il suo intento non è proprio buonissimo quindi cosa fa si mette d'accordo con l'on john silver che lo recluta in una taverna insieme ad altri pirati per fa un equipaggio che in un certo momento poi deve insomma crea dei problemi al marito alla spedizione adesso non voglio fare troppi spoiler un long john silver che non è come l'aspettavo io quindi è caratterizzato alla supereroe bonelliano ma molto molto più umano molto cattivo piratoso però allo stesso tempo non un eroe dei pirati che tutti lo rispettano anzi c'è una gamba di legno molto fragile ecco l'hanno fatto anche molto fragile e quello devo dire che all'inizio non mi è piaciuto ma dopo con la lettura della serie mi è piaciuto molto i personaggi sono caratterizzati tutti tutti bene dalla dai pirati dalla punto la la signora vivia il fratello del nord est in la serva la serva della di lady vivian c'ha praticamente un un gran ruolo cioè viene dato un gran ruolo soprattutto nei primi albi e l'hanno caratterizzata molto molto interessante figa poi come spesso accade nel fumetto francese diciamo del filone storico chiamiamolo così ci abbiamo un anche una deriva un po vedete un po sull'esoterico qui ci abbiamo una deriva un po alla per quanto riguarda indigeni sacrifici adesso mi voglio fa spoiler però un discorso anche qui che si ritrova spesso nel nel fumetto francese la fine lo svolgimento che va verso la fine non me l'aspettavo così la fine mi ricorda mi ha ricordato moltissimo apocalips now tutta una serie di di dinamiche che se l'avete letto l'origine poi me lo dire insomma se è così o no i disegni li ho trovati molto molto belli i colori anche sempre tutto molto molto chiaro anche in queste situazioni di caos diciamo ma le tavole sono sempre molto molto incomprensibili cosa che non spesso accade guardate qua comunque c'è pure qualche bella splash qua i colori cambiano perché questo se non sbaglio l'ultimo no questo dovrebbe essere terzo bellissimi panorami guardate qua che scorci che panorami della giungla devo dire che hanno fatto un lavoro per quanto riguarda il paesaggio della giungla veramente veramente interessante il testo scorre ogni tanto parlicchiano un po troppo ma non disturba devo essere sincero c'è una bellissima voce fuori campo quindi da scalia che che non scoccia a me da scalì e voce fuori campo non lo so pesanti un po scocciano questa non scoccia affatto il finale è carino ma forse la parte non più debole volevo di più deve non è più debole però non è un finale un po più buono romantico di quello che che io mi aspettavo che era la serie ecco l'aspettavo un po più cruda comunque molto meglio di di baracuda per quanto riguarda storie di pirati altre ancora non l'ho lette perché purtroppo formato cosmo tipo black roll formato il formato cosmo non mi piace non la voglio leggere lì in quel formato atto elettrico i pirati barataia lo sparviero proprio piratesco però però devo dire che è interessante anche se non c'è tutta questa azione piratosa però devo dire che il soggetto e la sceneggiatura meritano meritano una una lettura se sei davanti del fumetto francese ve lo consiglio però consiglio ve lo dico non è la classica storia di pirati ma è scritta bene i personaggi sono caratterizzati bene e vedrete che vi che vi piacerà sicuramente ne sono sicuro ok dovete recuperarla sull'usato vedete insomma se riuscite ma consigliata d'orison e matteo la frecch eccola qua per tutto il resto come al solito scrivete nei commenti vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti